L'allenamento richiama l'afflusso sanguigno maggiormente verso i distretti che sono interessati. La digestione, come di logica, invece lo richiama verso lo stomaco. Per non creare interferenze, sarà opportuno allenarsi o a stomaco vuoto, ma per non più di 15 minuti con esercizi di media intensità, oppure, se si vuole affrontare una seduta aerobica, quindi di lunga durata, ad un'intensità che può variare, sarà opportuno alimentarsi con una colazione prettamente glucidica e soprattutto con basso indice glicemico, affinché l'energia sia disponibile per tutto l'arco della seduta.